Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Allora, io sono qui in casa, sto uscendo dentro, vado a vedere se sono tutti pronti, siamo qui in conto. Ok, andiamo, riusciamo, imbarca. Siete pronti? Tu chi sei? Non rispondi. Elisabetta Gregoraci ha entusiasmato i suoi fan oggi, con un aggiornamento sulle sue vacanze natalizie. La celebre personalità televisiva ha annunciato con entusiasmo di partire per una gita in barca, regalando ai suoi follower un'anteprima del suo lussuoso mega residence appartenente alla famiglia Briatore. Nel video condiviso, Elisabetta ha mostrato gli splendidi dettagli della sua residenza, incorniciata da paesaggi mozzafiato. Accanto a lei, il suo affascinante figlio, frutto della sua unione con l'imprenditore Flavio Briatore, ha reso l'esperienza ancora più speciale. Oggi, dunque, la famiglia si prepara ad un'altra giornata di relax in un contesto idilliaco, celebrando il Natale con il calore del mare e la bellezza di un ambiente esclusivo.